Padova è molto fortunata ad avere degli operatori enogastronomici come ristoranti, pasticcerie e bar molto sensibili all'aspetto salutistico a tavola. Ecco perché Promex quando ha ideato questo progetto chiamato appunto Health Chef che si può tradurre come benessere in tavola, ha trovato terreno fertile. A livello di ristorazione i tempi di cottura, la bassa cottura, il poco sale è subito stato recepito all'interno delle cucine dei nostri operatori. A livello di pasticceria il meno zucchero nei dolci ha trovato terreno fertile nel laboratorio anche se può sembrare un paradosso ma anzi c'è la curiosità per cui meno zucchero esalta il sapore del vero dolce e quindi anche qui Health Chef anche in pasticceria. Quindi un grazie a Promex per questa idea, per questa iniziativa e per questo progetto che ha raccolto sotto un cappello che è appunto il logo di questa iniziativa Health Chef tutti questi ambasciatori del benessere a tavola.